La stretta di mano infinita tra il principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman e il presidente francese Emmanuel Macron non lascia spazio a dubbi. Il principe è tornato sulla scena internazionale passando dalla porta principale, decisamente troppo per le associazioni per i diritti umani, per cui Bin Salman è il mandante dell'assassinio del giornalista saudita Cassoggi. Il principe saudita finirà davanti a un tribunale francese? Non credo. Sarebbe una vera sfida per la giustizia francese, verrà accolta. Non saprei, ma già il fatto di intentare un'azione legale verso il principe saudita è un fatto positivo. Significa che non vogliamo lasciare spazio all'impunità e se questo può mettere in imbarazzo Mohamed Bin Salman ed Emmanuel Macron, allora per noi sarà una vittoria. Per il principe saudita in particolare si pone la questione se come capo di Stato goda di una certa immunità. È vero che la Corte Penale Internazionale ha già condannato diversi leader africani per tortura e crimini di guerra, ma si tratta di casi rari e la scure della giustizia internazionale è arrivata solo dopo che avevano lasciato il potere. Grazie. 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 Grazie.